In cammino nella storia del territorio. È il nome dell'iniziativa che si è svolta ieri ad Alatri che realizza il primo punto del progetto Cristo degli Ernici ideato dal CAI di Alatri e che tocca oltre alla città dei Ciclopi anche i comuni di Vicco e Collepardo con i Monti Ernici. È un'idea, dice Silvio Campoli, presidente CAI Alatri, che mettiamo a disposizione dei cittadini sapendo che può diventare anche occasione di sviluppo locale. Il progetto prevede infatti di associare la cultura storica, archeologica, religiosa e la montagna. In coraggio e guida il visitatore e l'escursionista verso un'osservazione e un contatto diretto con lo spazio naturale e il territorio potendone leggere la sua storia attraverso le diverse chiavi di lettura suggerite dagli studi di Don Giuseppe Capone. Per questo la giornata dell'11 novembre è iniziata con l'inaugurazione del sentiero cittadino che da Civita di Alatri raggiunge la Badia di San Sebastiano intitolato proprio a Don Giuseppe Capone. Un percorso che tocca i punti storici ed archeologici della città di Alatri e del territorio che Don Giuseppe nei suoi libri ha riportato al centro dell'attenzione degli studiosi e non. Si è continuato presso la porta Badia di San Sebastiano con la posa di una lapida ricordo dell'incontro nel 528 d.C. tra San Benedetto e il primo abate del Cenobbio, il diacono Servando. Forse qui praticavano una regola del monachesimo orientale. È verosimile che essi conoscessero la regola magistica e che questa sia stata introdotta nell'Italia centrale proprio tramite i monaci di Servando. Molti autori sostengono che la regola sia stata scritta in questo luogo. Per l'occasione è stato possibile anche visitare la Badia. Il tema dei cammini è molto importante. È un tema che può essere sviluppo, aggregazione, capacità di far vivere la città, di mettere insieme lo sport, la natura, la storia e quindi anche un punto di attrazione importante per la nostra città. È davvero una bellissima iniziativa, grazie al CAI, grazie all'amministrazione comunale, perché davvero ora si arricchisce di un pezzo in più l'attrattiva di Alatri. Il cammino è stato intitolato da Don Giuseppe Capone perché è quello che ha studiato, ha avuto il merito di riportare alla memoria, alla luce, fatti antichi, fatti antichissimi, le origini della città e perché no anche il passaggio di San Benedetto presso la Badia. Io ringrazio il CAI che ha avuto questa idea, ringrazio tutti coloro che si sono adoperati per affiggere la targa, per ricordare le parole di Don Giuseppe Capone. Abbiamo fatto una bellissima camminata dalla nostra imponente Acropoli, cosiddetta Civita, fino qui alla Badia di San Sebastiano. Noi nel 2011 abbiamo, insieme al CAI, con il Comune di Alatri, è stato realizzato questo progetto di 9 tappe di 15 km da Subbiaco a Monte Cassino. Questa tappa in territorio di Alatri oggi la vogliamo intitolare a Don Giuseppe Capone che è stato sempre un grande animatore degli studi culturali e della conoscenza del territorio, soprattutto dell'approfondimento sulle abbazie e sulla datazione delle abbazie. Grazie. 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 Grazie.